Ciao a tutti, come conquistare con i messaggi? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Allora, oggigiorno la conquista si sviluppa sempre di più attraverso i messaggi. E' fuori di dubbio che i messaggi sono diventati uno strumento di seduzione, uno strumento di conquista. E' come utilizzare quindi i messaggi? Prima di affrontare il tema ti ricordo che l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo, la 20.45, elimina i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. E il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Tramasco, abbonarti al canale Massimo Tramasco è semplice, basta andare sulla home page, a fianco ai tastini iscriviti, trovi il tastino abbonato e abbonando ti avrai la visibilità, cioè avrai la possibilità di frequentare lezioni mirate a livello base, lezioni mirate più videoregistrazioni e seminari dal vivo a livello top e in più una consulenza sul livello Master Consulting. E adesso veniamo al tema, tra l'altro puoi abbonarti anche al canale Felicità Benessere, semplicemente con una quadrisoria per avere, diciamo, visibilità in live. Veniamo al tema, come conquistare tramite i messaggi. Allora, oggigiorno le persone poi alla fine conquistano attraverso le chat, cioè la conoscenza avviene spesso attraverso le chat e poi avviene attraverso una serie di messaggi Whatsapp, Whatsapp o Instagram o quello che sia, insomma, Messenger piuttosto che Telegram, insomma, o SMS, quello che è, ma i messaggi hanno una parte molto importante nel processo, nel procedimento di seduzione. Allora, quali sono le linee guida da utilizzare per sedurare a trovarsi i messaggi? Bene, devono essere dati, ovviamente, gli stessi stimoli che si danno dal vivo, soltanto che diluiti attraverso il messaggio. Quindi vanno monitorati in diversi parametri. Il primo parametro è la lunghezza del messaggio, la frequenza con cui mando un messaggio, il tempo di risposta, la visualizzazione o non la visualizzazione. E poi c'è anche il contenuto, che tra le tante cose, diciamo, può avere un contenuto logico, ma anche un contenuto emozionale. Allora, cerchiamo di districarci un attimino in tutto questo. Allora, il messaggio, che fine ha? Qual è il messaggio? Il fine del messaggio è quello di comunque suscitare emotività nella persona, perché ricordiamoci sempre che noi seduciamo, conquistiamo, chi conquistiamo emotivamente, non tanto a livello logico-razionale quanto a livello emozionale. Allora, per riuscire a conquistare la persona che ci interessa in qualche modo, dobbiamo mandare degli stimoli appropriati. Questi stimoli appropriati, attraverso il messaggio, intanto devo recuperare informazioni. Quindi ho conosciuto una persona durante, su una chat, devo iniziare a mandare dei messaggi che possano, diciamo, agganciare in qualche modo la persona. C'è poi tutto il messaggio visivo dato dalla foto, normalmente in qualunque situazione mettiamo una foto. È ovvio che la foto ha un grande impatto, quindi cerchiamo di mettere delle foto belle, tanto ormai le foto si possono più o meno ritoccare tutte in un modo o nell'altro. È importante mettere delle foto giuste, diciamo così, non eccessivamente ritoccate, però che valorizzino al meglio. Una volta fatto questo, che cosa è importante fare? Una volta fatto questo è importante iniziare ad utilizzare degli strumenti, diciamo così, di seduzione. Quindi, attraverso la parte logica tu devi fare delle domande aperte. Com'è che hai deciso di? Com'è che hai fatto questo? Perché? Che cosa ti ha spinto a? In modo tale che noi recuperiamo più informazioni. Ad esempio, se una persona scrivendo inizierà a dire, ma sono stato un po' sfortunato, e si autoattribuisce la responsabilità delle cose che gli capitano, beh, sicuramente è una persona che va trattata con delle difficoltà, e quindi dobbiamo rispondere di molto meno ai messaggi. Perché si aggancia su alcune cose difficili, quindi non dobbiamo risponderli. Se lui scrive, non li devi rispondere, meno, meno di quello che lui scrive. Scrive molto di meno e fallo aspettare molto tempo. Se poi ti parla, diciamo ad esempio, mentre scrive, utilizza dei termini prevalentemente materni, e quindi ci sono stati che tutti i nostri spettatori,